Il segretario del Partito Democratico di Andrea, Giovanni Vurchio, si chiama fuori dalla corsa alla candidatura a sindaco, spianando di fatto la strada all'avvocato Giovanna Bruno, che avrebbe il gradimento dei vertici provinciali e regionali del PD, delle civiche di supporto al centro-sinistra e del consigliere regionale Sabino Zinni. Per far sapere ciò che noi sapevamo da sempre, Vurchio ha scritto una nota che naturalmente non ci ha inviato, provocando la nostra disperazione, avendoci privato della possibilità di abbeverarci al suo forbito verbo. In tale nota scrive che al fine di chiarire le tante voci che si rincorrono sulla sua candidatura precisa che il ruolo di segretario politico è incompatibile con la carica di candidato sindaco. E allora, visto che siamo in tema di chiarimenti, facciamoli seriamente. La motivazione data da Vurchio è naturalmente risibile per due motivi. Uno è che potrebbe dimettersi dal segretario. Due, che pur conoscendo benissimo l'incompatibilità, ha continuato a battagliare per essere candidato. Non si trattava quindi di voci. E possiamo elencare una pletora di soggetti politici e non, a cui ha manifestato con insistenza le sue intenzioni, sostenendo che sarebbe stato il candidato sindaco del popolo, oltretutto senza che il popolo fosse cosciente di quale grave minaccia incombesse su di esso. La motivazione vera è che si è finalmente convinto che non lo vogliono, cosa che noi gli anticipammo forse un po' brutalmente, irritandolo molto. I suoi melenzi interlocutori sono stati più delicati sino a dirglielo chiaramente. Quindi, nessun generoso passo indietro, semplicemente avevamo ragione noi. Ci dispiace per l'incontenibile ego del segretario del PD, ma che il candidato non era il caso fosse lui, lo constatammo oltretutto a dicembre, in modo definitivo, il giorno dell'inaugurazione in pompa magna della sede del partito. Non fu tanto la sua esibizione al karaoke a proposito di cabaret della politica, quanto la scritta che troneggiava sulla sua testa. C'è un'Italia più bella, senza che tra un e Italia ci fosse l'apostrofo, e senza che nessuno si fosse degnato di correggere l'errore marchiano, magari apponendo un pietoso pezzo di scotch. Forse non se ne sono accorti o più probabilmente hanno preferito che si evidenziassero le defiance grammaticali del proprio segretario aspirante sindaco, si sa nel PD la perfidia e sovrana. Fu la goccia che colmò il vaso delle nostre certezze. Ci convincemmo che come sindaco, oltre al resto, a Giovanni Vurchio mancava un apostrofo.